All'ospedale Israelitico, un team di medici specializzati ti aiuterà a prevenire e curare il tuo sorriso. In una sola seduta effettuerai radiografia panoramica, visita odontoiatrica e riceverai istruzioni di gene orale. Prenota la tua visita allo 06 60 29 11. Aperti anche di domenica. Tariffe agevolate. Ospedale Israelitico. Conosciamo il valore di un sorriso. Per dare luce al tuo sorriso, affidati ai dentisti dell'ospedale Israelitico. In una sola seduta effettuerai visita odontoiatrica e sbiancamento dentale per rendere i tuoi denti bianchi e sani. Prenota la tua visita allo 06 60 29 11. Aperti anche di domenica. Tariffe agevolate. Ospedale Israelitico. Conosciamo il valore di un sorriso. La precisione di una diagnosi è fondamentale per la cura del paziente. Il reparto di radiologia dell'ospedale Israelitico, grazie alle sue apparecchiature di ultima generazione, garantisce una radiodiagnostica completa e affidabile. Aperti anche di domenica. Per prenotare chiamalo 06 60 29 11. Oppure vai su www.ospedaleisraelitico.it. Ospedale Israelitico. Insieme a te. Da sempre. Terapie innovative e percorsi di cura mirati possono cambiare radicalmente la vita dei pazienti affetti da diabete. Presso il reparto di diabetologia dell'ospedale Israelitico, un'equip specializzata potrà seguirti con competenza e attenzione. Per prenotare chiamalo 06 60 29 11. Oppure vai su www.ospedaleisraelitico.it. Ospedale Israelitico. Insieme a te. Da sempre.